Siamo molto arrabbiati, ma sono molto arrabbiato io e domani farò una chiamata abballata perché non possono accadere queste cose, perché l'errore tecnici ogni tanto ci sta, oggi ho visto qualcosa, ma al di là poi gli errori tecnici hanno sempre un atteggiamento anche negativo, di sfida verso i giocatori, questo non va bene, bisogna collaborare, poi ha fatto degli errori incredibili, guardate le immagini su Dazon, guardate un po' cosa ha combinato, non si può lavorare una settimana e poi venire trattati in questo modo, non è perché siamo una piccola, noi vogliamo rispetto al di là della forza del Chievo, poi il Chievo magari vinceva la partita 11 contro 11, però proprio ha rovinato una partita incredibile, poi è molto corretta al primo tempo tra l'altro, però noi siamo molto arrabbiati, soprattutto se sono arrabbiato io mi farò sentire, perché queste cose non devono accadere, per cui si fa tutto uno sforzo sia economico che di gestione, queste cose non possono accadere, perché l'errore ogni tanto ci sta, ma l'atteggiamento sbagliato non lo accetto e mi farò sentire.